Perché sei qui, Dora? Perché mi hanno stuprata. Senza consenso? Ho detto stuprata, no? Con brutalità. Quanto ci scommetti che se ti dicessero di andare obbediresti? Come una brava bimba. Ma se ti dico che non ci vado, non mi credi che poi non ci vado davvero? Oh, vaffanculo, no. Non mi credi? No. E allora non credi? Infatti. Perché no? Perché no? Perché no? Perché non ci credi? Allora non credi. Credere a cosa? A quello di cui parlavamo. Di cui parlavamo? Idiota. Dora! Dov'è, Dora? Ti stavamo cercando. Dai, è solo uno scherzo. Non crederai mai a quello che mi ha appena scusato.